Kimi Raikkonen, ultime curve sulla sopraelevata prima del traguardo Kimi Raikkonen, bandiera scacchi, vince Kimi Raikkonen, il gran premio del Brasile davanti a Massa con Alonso che è dietro, la Ferrari ha vinto, attendiamo il passaggio degli altri Raikkonen e Massa, doppietta Ferrari, straordinaria, sesta vittoria per il finlandese in questo campionato e della quinta e della quarta doppietta